Fa rumore, volante rigido, cambio che vibra, diciamo che come auto di tutti i giorni non è il massimo ma se ci si vuole divertire comunque il weekend in montagna è spettacolare. Questa è la Nissan 370Z del 2010, un 3.7 V6 aspirato da 330 CV, cambio manuale trazione posteriore e due posti secchi versione coupé. Ho iniziato a interessarmi principalmente al 350Z già da quando ero abbastanza piccolo tra videogiochi e robe del genere, poi però nel momento di comprarlo ho notato che le quotazioni del 350Z sono leggermente più alte di quelle del 370 e ho preferito andare sul 370 perché comunque è un'auto un po' più moderna, magari la linea non può piacere a tutti, spesso si tende a preferire il 350 come linea. Però per la differenza di prezzo ho preferito andare su un 370Z appunto soprattutto per la modernità. Questa 370Z l'ho comprata usata con veramente pochi chilometri, aveva su 11.000 chilometri e appena comprata in un annetto ne ho fatti circa 5.000. Ho avuto la fortuna che ce l'aveva un appassionato e l'ha tenuta ferma poi per parecchi anni, infatti appena sono andato a vederla e a vedere com'era non era neanche revisionata. Ho fatto tutti i controlli del caso tramite assicurazioni, mica assicurazioni per controllare se il chilometraggio non era stato tirato giù abbassato per riuscire a vendere, dato che comunque ce l'aveva lì da un po' di anni. A proposito di controlli da effettuare prima dell'acquisto di un'automobile, lo sponsor di questo video è CarVertical, il servizio che aiuta a capire se un'automobile usata è stata incidentata, schilometrata o rubata. Inserendo la targa o il numero di telaio, CarVertical raccoglie informazioni da vari database, tra cui quelli di assicurazioni, siti di vendita, case automobilistiche e li organizza in un report, inserendo, se sono disponibili, anche delle fotografie. Ovviamente CarVertical non ha la sfera di cristallo, se un'informazione non è stata registrata in uno dei database a cui CarVertical ha accesso, quell'informazione non verrà inserita nel report. Ma CarVertical è un buon punto di partenza per capire se ha senso o meno considerare l'acquisto di un'automobile usata. Sperando che questo servizio possa esservi utile, in descrizione e nel primo commento c'è il link per visitare il sito con un 10% di sconto sul primo report. E ora, torniamo alla 370Z. Il 370Z l'hanno prodotto dal 2009 fino al 2020, successivamente hanno iniziato a produrre il 400Z che però non hanno commercializzato in Europa e il 370Z non è molto presente in Europa e più che altro il mercato è andato meglio nella zona degli Stati Uniti. C'è sia la versione Roadster che quella Coupé, questa è la versione Coupé. Le valutazioni della versione Roadster sono un po' più basse. Il modello prima di questo è il 350Z che è leggermente più lungo, un po' più pesante, con la linea soprattutto che si nota diversa dalla parte dei fari. E anche lei monta un 3.5 da 280 CV e nell'altra versione un 3.5 da 313 CV. Essendo un motore comunque più datato tende ad avere consumi leggermente più elevati. Questa si aggira circa 5-6 km al litro usandola anche normalmente. Il 350 invece è un po' meno permessiva e tende a consumare leggermente di più. Come pregi sicuramente ci trovo l'esperienza di guida. È veramente molto piacevole da usare anche se è molto secca, ti permette poco. Anche se comunque i controlli funzionano molto bene, difficilmente rischi di sbagliare con i controlli attivi. Molto secca, volante molto rigido, cambia abbastanza corto. Un'altra cosa che mi è piaciuta moltissimo fin da subito è stata soprattutto la linea, sia dell'interno che dell'esterno. Dal mio personale punto di vista la trovo invecchiata molto bene, soprattutto per il fatto che non è presente molta tecnologia all'interno. Anche col fatto che questa non abbia l'optional del navigatore invecchia comunque molto bene, manometri, tutto analogico, quasi tutto analogico. Lo trovo molto... sta invecchiando bene dal mio punto di vista. Il bello alla fine è le sensazioni che ti dà la guida. Come difetti invece ci trovo sicuramente il fatto che comunque consuma molto, che un motore così grosso in Europa è abbastanza penalizzato per la questione di tasse, mica tasse che ci va indietro. Anche se comunque con la storia della riduzione del superbollo, trovando l'auto giusta riesce anche ad avere un buon compromesso. È sempre una grande spesa e come auto di tutti i giorni difficilmente si riuscirebbe ad usare anche... Soprattutto per il grande consumo che ha di carburante, per il fatto che non si dovrebbe fare la 95 ottani ma la 100 ottani. Minimo 98 rombici. Quindi sotto i 98 non potresti scendere. Se ti capita la metti dentro va lo stesso. Però non l'ho mai tirata quando avevo dentro la 95. Il motore comunque essendo aspirato trovi tutti i pregi e tutti i difetti di avere un motore del genere. La roba comunque positiva è che avendo una cilindrata così grossa e i cavalli in paragone essendo più bassi, comunque il motore è molto resistente. L'unico difetto che c'è alla fine è che consuma un po' d'olio. Però comunque io usandola normalmente ho fatto 5.000 km in un anno e l'olio non è sceso poi di così tanto. Il rabocco l'ho fatto una volta e non è stato neanche poi così eccessivo. Sempre rimanendo sul discorso dell'aspirato non hai le stesse sensazioni di un motore turbo, non ti dà la stessa botta, la stessa adrenalina. È più un'esperienza che si basa al 100% della guida, delle curve, del rumore del motore. È comunque piacevole perché sul lungo la senti veramente che tira verso gli alti. Di primo impatto se ci sai da un motore turbo molto più piccolo, anche grosso la metà, a questo motore di primo impatto ti troverai comunque abbastanza deluso. È grosso, tira lentamente, però tira sugli alti ed è bello da guidare almeno dal mio punto di vista. Mi trovo penso meglio almeno con queste caratteristiche a divertirmi sui passi di montagna, anche se comunque è una macchina abbastanza grossa, abbastanza pesante. Se ne state cercando una mi sento comunque di darvi qualche consiglio, di cercarla comunque il più possibile originale, di far bene i controlli del tipo, perché comunque essendo motori un po' particolari, anche trovare pezzi di ricambio risulta un po' un problema nel momento in cui compri una macchina in solito che ha determinati difetti, tende a portarli avanti nonostante si cercano di sistemarli. Provarla bene, magari andarla a controllare anche con un meccanico, in modo che riesco a controllare eventuali perdite. Comunque mettersi nella testa che è una spesa mantenerla più che comprarla, perché comunque anche se ci sono riduzioni di superbollo, comunque il bollo risulta una bella spesa e il superbollo consiglio di cercare comunque una macchina già di qualche anno. Di solito comunque le macchine di qualche anno difficilmente va bene trovarle poco chilometrate, senza che nessuno gli abbia messo mani, anche se comunque il 3,70 a differenza del 3,50 tendono meno a modificarlo, a cercare modifiche aftermarket. Nel mio caso sono riuscito comunque a trovare un prezzo abbastanza abbordabile per i chilometri che aveva alla fine l'oro sono arrivato a pagarla circa 30.000 euro con 11.000 chilometri. A un anno di distanza, cercando comunque su vari siti, inizia ad essere più difficile e più raro trovarle con pochi chilometri e per lo più comunque si trovano chilometrate a prezzi già più alti, leggermente più alti dell'anno scorso. Penso sia una conseguenza del fatto che il 3,50 pian piano del mercato JDM in Italia pian piano stia salendo sempre più di valore e penso che vada dietro al fatto che essendo comunque il 3,50 valutato di più del 3,70 il mercato magari si tende a spostarsi un po' più sul 3,70 e quindi tenda ad aumentare un po' di valore. Anche se comunque il prezzo d'acquisto sembrerebbe abbordabile, comunque il problema viene comunque nelle spese di mantenimento. Alla fine io utilizzandola tutti i weekend comunque non ci faccio tanti chilometri, ho fatto in un anno circa 5.000 chilometri e le gomme sono ancora buone. Dipende poi, è una roba soggettiva, dipende come la si usa, quanto la si usa, se si va in pista, se si usa solo in strada e da tanti parametri. Soprattutto che dà molto fastidio e che grava molto più sulle spese è sicuramente bollo e superbollo, però appunto avendo la riduzione del superbollo ce la si cava ancora, io comunque per questa qua che è un'auto del 2010 vado a pagare circa 810 euro di bollo e col fatto che è 10 anni 350 euro di superbollo. C'è da mettersi in testa che comunque è una spesa da fare, a fine anno comunque alla fine gira che ti rigira sono poco più di 1000 euro e si tratta comunque di mettere da parte circa 100 euro al mese in più solo per la questione di tasse. Poi c'è comunque il problema tagliandi, consigliano comunque non da casa madre, da appassionati, di fare un tagliando di 3-5 mila chilometri all'incirca. Anche lì dipende sempre da come si utilizza, se si utilizza in pista, se si tende a tirarla o si tende ad usare tranquillamente. Un'altra spesa importante da mettere in conto sono le gomme, alla fine monta davanti un 245 di larghezza e dietro 275. Dunque sconsiglio di prendere comunque gomme di basso livello, a meno che non si voglia usare in pista per andare a driftare o roba del genere perché comunque il giorno che vai sul bagnato con le gomme sbagliate rischi veramente di mandarla contro un muro facilmente, soprattutto senza i controlli attivi. E comunque anche con i controlli attivi si ti taglia potenza ma la macchina fa tempo a partire. Se trovi il momento sbagliato con delle gomme non adatte è veramente pericoloso. Sicuramente un problema comune che hanno i 3,70 in generale è il fatto che la temperatura dell'olio tende facilmente a salire se non si sta andando a una buona velocità, quindi per l'utilizzo in paese spesso consigliano di cambiare il radiatore dell'olio perché tende a scaldare tanto e diciamo che non è il massimo. Nel mio caso non so dirvi per la temperatura dell'acqua perché mi sono trovato comunque già una macchina con un radiatore maggiorato e la temperatura dell'acqua non mi ha mai dato nessun tipo di problema. Un altro difetto abbastanza noto, tendente dei motori VQ, è comunque il fatto che tendano a mangiare olio. Anche lì, come ho detto prima, dipende sempre dall'utilizzo che si fa della macchina. Io non l'ho trovato poi così eccessivo anche perché in 5.000 km l'olio era in circa 3 quarti del suo livello. Comunque consiglio vivamente sempre di tenerlo controllato e di controllare tutti i livelli prima anche di fare un'oretta e mezza, due di viaggio perché è sempre meglio stare attenti e appunto essendo motori particolari non sempre è facile trovare ricambi. Può andare di fortuna, può andare di sfortuna, comunque è più difficile trovare pezzi di ricambio per macchine un po' più particolari. E mi ha sempre attirato comunque la particolarità, il fatto che sia un po' qualcosa di diverso da quello che si vede in giro. Anche il fatto che comunque sia una giapponese ma non giapponese perché comunque di solito JDM tende a trovare motori piccoli, sempre molto spinti, questo invece tende più ad avere un'anima americana, un po' più un cuore americano con un'estetica JDM. che si vede in giro. anche il fatto che sia un po' più un'estetica JDM.